Stiamo lavorando sodo, penso che siamo nella giusta direzione. Riprendono gli allenamenti in casa Martina Franca, in realtà la ciurma agli ordini del tecnico Massimo Pizzulli è già al lavoro sul terreno del Cupa da mercoledì scorso dopo il ritiro di Vigiano della passata settimana. Tanta intensità e tanto ritmo per una squadra che dimostra di essere in crescita compatibilmente con i carichi di lavoro fino a ora sopportati. Il prossimo impegno sarà una gara amichevole sabato sera allo Stadio Tursi contro la Virtus Francavilla con fischio d'inizio fissato per le ore 20. Adesso ci approcciamo a questa partita con Francavilla, fiduciosi che sia una bella serata soprattutto. Ci piacerà vedere ovviamente la squadra nella fase di sofferenza perché sicuramente giocheremo in una squadra importante. Avremo un altro amichevole giovedì con il Manduria, poi stiamo definendo se sabato o domenica, ma molto probabilmente sabato sera, la partita con il Taranto Calcio. È un momento ovviamente un altro di quelli amichevoli che servirà alla squadra per capire a che punto siamo, come si comporta. Sono stati risolti i problemi allo Stadio Tursi? L'amministrazione comunale si sta prorigando affinché si risolvano il più breve tempo possibile, per il momento purtroppo la tribuna non sarà agibile. Mister Pizzulli in ritiro ai nostri microfoni ha parlato di una forza diversa del gruppo quest'anno, probabilmente anche una presa di coscienza di quello che questo Martina è capace di fare. Sì, dal primo giorno è quello l'obiettivo che mi sono prefisso, far capire ai ragazzi che noi nel nostro sempre modo sobrio, cioè quello di non essere al di sopra delle righe, dobbiamo convincerci di essere una squadra importante.